diventerà presto più intensa la voce del tuo io centro spirituale frattocchie a cura di vb guida la vita dell'uomo diventerà presto più intensa più profonda e ricca di consapevolezze che non hanno ancora trovato l'equilibrio per poter emergere cerca in te non partendo da preconcetti o pensieri chiusi in loro stessi ma apriti al tuo sentire più buono e mettilo anche nei tuoi pensieri e vedrai che saranno più completi sii fonte di energie positive capace di coinvolgere altri esseri umani non ti chiuderei né i tuoi no ma apriti ai sì non farti ingannare da falsi giochi di parole ma rifletti usando le capacità che avrai il mondo gira in tondo non andare contro mano scontrandoti con te stesso non seguire le false onde che ti si propongono perché ci sono anch'esse ma vai diretto all'essenziale che è sempre la purezza alla genuinità muoviti ma non agitarti perché turberesti la pace di cui necessiti per vivere bene la vita è lunga non ha inizio e non ha fine ma riempie ogni spazio e ogni tempo nella sua continuità grazie a tutti